Amici carissimi di Patria TV, pace e bene a tutti, come vedete oggi sono insieme ragazzi della curata, i ragazzi che cantano ogni domenica nella nostra patocchia. I ragazzi quest'oggi vogliono dirvi un bellissimo dono per la festa di Natale e lo vogliono fare attraverso un canto e un'unica per augurarvi, per augurare a tutti voi un buon e santo Natale. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Noi tutti vogliamo dirvi qualche cosa Grazie a tutti Grazie a tutti